Musica tutto pronto è appena cominciato questo match tra i ragazzi del borussia zuopmund e ragazzi dei realissimi grandissimo match si prospetta in questa serie c domenicale vediamo appunto il mezzo che emozioni ci regalerà buon calcio a tutti di filippo alla battuta con la palla verciullini e sepe spazza tutto poi ascoli ancora ascoli prova ad andare pala che resta lì del piano sblocca il risultato va a segnare il gol che consente ai realissimi di portarsi sull'uno a zero esposito vince un ripallo con il destro fiorenzano la parata decisiva ancora sepe prova ad andare palla intercettata c'è del piano del piano ancora del piano tu per tu fiorenzano parata ancora una volta decisiva poi sepe palla ceduta ancora di taranto palla per bosco con il mancino si gioca del piano il destro fiorenzano ennesima parata palla sul secondo palo a cercare sepe in verticale c'è esposito che prova a far partire del piano del piano del piano del piano che parata di fiorenzano decisiva ancora una volta palla in verticale per esposito esposito fiorenzano e allora sepe primo tempo arrivederci alla ripresa è iniziato il secondo tempo del piano ci prova poi sinistra esposito proprio in apertura ce lo viene a dedicare il raddoppio dei realissimi concili esposito 2 a 0 palla in mezzo ancora l'assist di del piano la finalizzazione di del piano fa se di esposito allora azione personale del piano che va a segnare la propietta personale 13 del piano assist per esposito di nuovo contro assist per del piano prova ad andare via vince un rimpallo allarga destra per esposito esposito in mezzo fiorenzano che parata del piano che numero del piano esposito il più facile dei tap in solita dedica 4 a 0 esposito provo con l'esterno la tripletta che giornata per ciro esposito si porta a casa il pallone 5 a 0 ancora esposito si invola si invola esposito c'è del piano tutto solo viene servito del piano fiorenzano che parata boh sorbetto al limone l'ha detto la cacata della giornata e masco il pupillo ufficiale ascoli sorbo che giocate per ascoli posteri ma che giocate ascoli picchio palla fuori e finisce qui 5 a 0 siamo qui con ciro esposito migliori in campo questa vittoria trionfale per i realissimi tripletta per te una partita davvero clamorosa abbastanza facile raccontacela un po com'è stato è stata una bellissima partita abbiamo giocato bene contro gli avversari capaci e dedico questa vittoria ai ragazzi della mia squadra senti una menzione anche da parte loro alla fine una percezione in fase difensiva comunque molto ben organizzata compatti stanno correndo questi realissimi sembrano molto mentalizzati in questo inizio di torno invernale sì fortunatamente siamo molto mentalizzati e in realtà riusciamo a essere più cattivi dal punto di vista sportivo di questo sono molto contento dedico questa vittoria all'ottimo del piano che è partita anche da parte sua in realtà oggi è stato bravissimo ho passato anche la palla io ho un obiettivo personale in questo torneo cavo cannonieri per arrivare primo tra i nuovi mostri ah per oggi per oggi per oggi la classifica cannonieri invece è quella che